Oh, oh Dio, cosa vengo qua in pasto? Come qua? Servitor, servitor di tutti i tuoi anni Che vuol dire tal novità? Come qua? Il prentetto ci vorrà e il prentetto ci vorrà Don Basilio, come state? Come sto? Perché s'aspetta questa barca benedetta Questa barca la facciamo, la facciamo, la facciamo Ora vengo, ora vengo E il curiale, il curiale, io l'ho narrato, che già tutto è combinato, non è vero, sì, sì, dubbioso, dubbioso, ma non far te lo spiegate. E il dottore ha una parola, e il dottore ha una parola, col magia sono da voi, ascoltate un po' qua, sono da voi, sono da voi, ascoltate un po' qua. La carta intuitiva da via, qui ci scopro gran timore, quindi il corte di mare, non mi sta a poter sperare, la leccala signore che l'affare ancora non sa. Ma qui certo che un pasticcio non arriva a dominar, che ci scopro gran timore, e l'affare ancora non sa. La carta intuitiva da via, qui ci scopro gran timore, e l'affare ancora non sa. La carta intuitiva da via, qui ci scopro gran timore, e l'affare ancora non sa. La carta intuitiva da via, qui ci scopro gran timore, ma fai qua, qui ci scopro gran timore, e l'affare ancora non sa. La carta intuitiva da via, qui ci scopro gran timore, e l'affare ancora non sa. e non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonasera, buonasera. Buonasera, mio signore. Escondate via di qua. Buonasera, mio signore. Buonasera, buonasera. Buonasera, mio signore. Buonasera, mio signore. Buonasera, mio signore. Buonasera, buonasera. Buonasera, mi signore. 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 a a a a a a a